Siamo anche esposti ad eventuali attacchi terroristici, paesi come l'Italia, la Francia. Vede, quando c'è una guerra con modalità terroristiche, con una motivazione fortemente religiosa e questo costituisce benzina nel motore del terrorismo internazionale. D'altro canto, Islamic State è diventato Islamic State con la guerra civile in Siria. Naturalmente sono scenari molto differenti e tuttavia il rischio di una ripresa del terrorismo internazionale è particolarmente alto perché nel momento in cui ci sono i martiri, i martiri tra virgolette, evocano l'emulazione. Qui c'è un dato tuttavia che bisogna rendere molto chiaro tra di noi. Ricordiamoci cosa è successo negli attacchi al cuore dell'Europa con Islamic State. Parigi, Barcellona, Bruxelles. Italia no, anche questo giro Italia no. Due cose mi si consenta di dire. La prima cosa è questa. Quelli che hanno fatto quegli attacchi non venivano dalla Siria e dall'Iraq. Erano figli della nostra Europa. Figli di una sbagliata o mancata integrazione. L'integrazione è un pezzo fondamentale delle politiche di sicurezza per cui raccomando a tutti di maneggiare con cura questi temi. Secondo, l'Italia io c'ero diciamo e quindi l'Italia non ha subito diciamo attacchi. Lo dico con una certa prudenza perché sono molto scaramantico e quindi essendo calabresa sono molto scaramantico. Tuttavia c'è un dato. Quello che è successo tra il 2013 e il 2016 non è lo stellone italiano. Ci sono capacità. Ci sono capacità delle forze di polizia, ci sono capacità della magistratura, ci sono capacità dell'intelligence. Questo è un gigantesco patrimonio del Paese. Per questo sottolineo ci sono maggioranze e opposizioni ma in questo momento non si divida profondamente il nostro Paese. Ognuno, tra virgolette, mantenga le sue posizioni, lo faccia con la determinazione è delicato e bisogna tenerlo presente. Sapendo che in questo momento avere un tessuto connettivo del nostro Paese che valorizzi la capacità di prevenzione e di risposta diventa un elemento assolutamente fondamentale. Per esempio sarebbe utile